E' un crimine molto grave piratare i canali televisivi. Fare queste cose può portarti, fino a 16 anni di carcere, e un gran finale di soldi. Si prega di fare riferimento a p.nickjr.it per maggiori dettagli sull'hacking dei canali televisivi. Non essere sordo. Ti abbiamo detto molte volte che spengi la televisione e ancora non l'hai fatto? Per favore... Sì... 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 Grazie.